Ciao a tutti, sono Pier, Dusty FlySim e quest'anno è un anno particolare per il nostro centro di simulazione perché è il decimo anno di attività. Quindi il 2024 sarà un anno pieno di iniziative, eventi che vi aiuteranno anche a capire la storia della Dusty FlySim. E come iniziamo? Iniziamo ovviamente con il primo volo. Il primo volo che abbiamo fatto a luglio del 2014 a bordo del nostro Boeing 737 che da statico si è trasformato in motion, unico sempre in Europa. E a bordo c'era, e lo vedrete nel video, il nostro ex collaboratore amico Marco Frosio che assieme alla proprietà ha dato inizio a questo entusiasmante progetto. E ricordatevi che Dusty FlySim regala sogni. Grazie a tutti. A presto Attivando plus block smart Alle 5 miglia mettiamo il carrello Ok, occhio all'occhio, c'era un po' più sinistra Ok, questo livella qui questa porta qua, aspettiamo che l'idea che l'idea che l'idea non so qua Ok C'è già più sinistra? Quella più sinistra? Sì, sì Quella più sinistra? Sì, sì Sì, sì 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 Perfetto Sì 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 Perfetto. Perfetto. Bravissimo. Terrain. Ok. 100. No stacco. 50, 40, 30, 20, four, five. Perfetto. 시에 ab fix Suspч 來. Perfetto. Grazie a tutti.